In confondibile per i suoi abitanti, il dolce profilo delle colline di Langa, Roero e Monferrato amplierà ben presto la platea dei suoi conoscitori. Questa è la speranza che deriva dal prestigioso riconoscimento che il territorio piemontese ha ottenuto il 22 giugno a Doha, in Qatar, dove l'UNESCO lo ha ufficialmente iscritto quale cinquantesimo sito nella lista del Patrimonio Mondiale dell'Umanità. Il progetto, nato da un'idea sostenuta dal territorio fin dal 2003, è stato avviato dal giugno 2006 e ha visto l'impegno diretto di Regione Piemonte, delle province di Alessandria, Asti e Cuneo, del Ministero per i beni e le attività culturali, del Ministero per le politiche agricole, dell'Associazione Paesaggi Vitivinicoli Langa, Roero e Monferrato, con il supporto tecnico di Citi, istituto superiore sui sistemi territoriali per l'innovazione.